Ciao, ci troviamo all'interno dello stupendo Vigeland Park, parco di Vigeland, che ospita moltissime delle creazioni di questo per noi italiani piuttosto sconosciuto scultore norvegese, ma che è veramente una perla all'interno di Oslo, tanto belverde, cascatelle, laghetti e numerosissime statue che potrete vedere nell'album fotografico che ho creato. Adesso andiamo proprio nel punto più importante del parco, quello dove c'è questa scultura particolare che raffigura un insieme di una specie di torre umana ai piedi della quale scultura. Si trovano altre statue ancora. Come vedete fa freschetto ma il tempo è bello, quindi questo spinge molto i norvegesi e ovviamente anche tutti i turisti a uscire e a venire in quei posti della città come questo che permettono di godersi un po' la bella giornata. Quindi se mai vorrete venire a Oslo avete un altro luogo interessante da mettere in programma per la vostra visita. e dal Bigaland Park è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.